Io probabilmente sapendo che il giocatore era ammonito non l'avrei ammonito. C'era e basta, bisogna saper dire le cose come stanno. Poi l'arbitro ha sbagliato, ha dato, non l'arbitro, l'assistente dell'arbitro ha dato un rigore che non c'era assolutamente e quindi poi le cose sono andate come sono andate. Ho una scelta di un assistente che probabilmente è rimasto in naftalina fino al settantesimo e improvvisamente si è svegliato prendendo una decisione che non c'entrava nulla. C'è disparità secondo lei nei giudizi visto che lei ha giocato anche in grande squadra, ha giocato nel Milan? A me interessa quello che è successo oggi. Sicuro che un episodio del genere che capita in una grande squadra non è rigore mai, mai. Questo è pacifico. E dunque partiamo proprio da quest'ultimo episodio. Sembra che ci sia stato l'errore. Guardando le immagini condivido la prima parte delle affermazioni di Donadoni. Un errore, tale è, c'è poco da discutere. Non condivido ovviamente la seconda parte dove si parla di piccole e grandi squadre. Siamo di fronte a un errore, mi dispiace, ce ne dispiace. E cercheremo di lavorare con questi due ragazzi, l'arbitro di area che, come si dice, è stato colui che ha preso la decisione. Per rivedersi un po' e faremo come fanno tutte le squadre. Però quella, Marcello, era la terza parte. La seconda parte era questo addizionale che per 70 minuti ha dormito, poi improvvisamente ha visto una cosa che non c'era. Cioè, gli addizionali sono un problema. Questo l'avete verificato. Gli addizionali intervengono il più delle volte sbagliando. E in questo caso è clamoroso. Perché, voglio dire, 1-0 all'82esimo, fai una roba del genere. A ragione Donadoni, se fosse cambiata una grande squadra, non avrebbe visto il rigore. Zazzaroni, se parliamo dell'errore, c'è poco da discutere. L'ho ammesso perché le immagini sono queste e sono anche abbastanza chiare. Non andiamo tutte le volte però a vedere oltre quello che non esiste. Spero, anzi, che arrivi presto la VAR, così almeno iniziamo a parlare di cose concrete. E probabilmente tolgo gli addizionali. Perché a quel punto lì non hanno più senso di esistere. Candereva, che è già ammonito. Vediamo un attimo. Questo è un fallo da dietro. Niki, ci stava il giallo e l'espulsione? Ci sta di tutto come ci sta niente. L'arbitro che è in campo giudica a secondo di quello che vede. E quello che si vede in campo a volte non è quello che si vede con un obiettivo. Ma tu cosa avresti fatto? Ma io probabilmente, sapendo che il giocatore era ammonito, non l'avrei ammonito. Cioè, fallo da dietro non è automaticamente giallo? No, non è automatico niente. Perché nel calcio non tutti i contatti sono falli. Ci sono falli, ci sono contatti che sono falli, ci sono contatti che non sono niente. Però hai detto una cosa grave? Sapendo che era già ammonito non l'avresti ammonito? No, no. L'interpretazione dello spartito, intende? No, 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 perché è ammonito uno, se c'è la seconda la prende. Io credo che in quel caso lì non ci sia stata una gravità tale da richiedere la seconda ammonizione.